Oddio, ma che siete impazziti? Oddio, scusi, scusami, mi dispiace tanto, è che non volevo, è che... Accidenti, che cretina, non è che volevo... Ti ho fatto male? Le ho fatto male? Parli italiano? Sì, ho appena parlato in italiano. E comunque io do del tuo a tutti, ecco, cioè non è che io penso che tu... Io cosa? No, tu niente, sono gli altri che pensano, che voi nigeriane, giusto? Stop, intanto sono una e non sono nigeriana. Vai, finisci, vediamo quali cazzate ha da sparare. Cioè, ma non è che io penso che gli africani sono tutti uguali e mangiano serpenti? Fa ridere? Non per fammi i fatti tuoi, ma com'è che ti sei ridotta così? Come? Bugiardo? Bugiardo e traditore. Ah, ma sai, ci metto poco, io non gli lascio neanche un paio di mutande, vedrai. Se ne fa ricomprare da quelle là, quelle lì, tutte quante. Si mettono insieme, capito? Fanno una colletta, vedrai quanto ci vuole. Ma poi, tutto questo restauro, perché? Perché? Ma perché cambio vita, no? Scusami, ma chi è meglio di te per accompagnarmi nella rutilante movida, eh? Chi è meglio di un'africana col sorriso bianco che si vede nella notte, allegra anche nei momenti difficili, e con la musica nel sangue, dette tutte, eh? Sì, Miss Rosella, finisco di ragone del godone, voi usiamo. Però non mi piace, perché io non ce l'ho con gli uomini, poerini, è più forte di loro, no? Eh? Perché? Scusa, scusa, scusa se lo dico, ma quelle non è che siano meglio, se ne approfittano. Non mi parlate degli albanesi, noi, tutta la vita che si combatte per la dignità della donna, e l'utero, mi allustisco io, poi arrivano loro, e gli va bene che li gestisca l'utero, e tutto quello che ci sta intorno. Eh? Pure le senegalesi sono così, fanno decidere tutto a lui. Sì, che poi le senegalesi sono scorrette, no? Scusa, che si viene qui con quei culiritti, ma che modo è? Voglio dire, ci si deve partire un po' tutti alla pari, no? Pari opportunità, per l'appunto. Ma anche le tedesche, proprio quelle, neanche si depilano. Mamma mia, ma io lo so perché, sai, lo so perché, perché, perché tira più un pelo. E lasciamo stare, guarda, voglio dire, ma dove, che c'è rimasto? Prendo l'Atlante. Brava, prendi l'Atlante. Ma che c'è preso? Si chiama razzismo. Oh, ma io, proprio io, io, ma come ho fatto a cascarci? Figura di io, Miss Rosel. Fase due. La rinascita. Scegliere un'attività totalizzante. Io pubblicherò un libro di poesie. Bello, signore. Questo momento suscita in me emozioni contrastanti. Dopo il tramonto rinasce la vita nata dopo il tramonto nata dopo il tramonto e spazzoria tutta la poesia del novecento Shakespeare e Molière niente casillabi e respiro e la niente casillabi e Molière nata dopo il tramonto Signore, ma dopo il suo libro io che faccio? e e e e e e e e